Sì dai, ecco qua, eccoci qua, c'è il telefono, sarà l'Irene, è l'Olina, sì, l'Olina, è l'Olina, sì, è profonata, non riusciva, ecco qua, sì adesso però guardi, questo brutto momento non possiamo assolutamente discutere, non me no, che siamo molti da parare, mi dispiace, tra una settimana, sì, anche un mese, tra un mese facciamo, bene.